Udine non ha ancora un sindaco, bisogna aspettare il ballottaggio fra 15 giorni, si aspettava questo risultato? Sì, beh, secondo me l'esito era prevedibile, considerando un po' anche l'evoluzione della campagna elettorale, anche ricordando l'esito delle precedenti elezioni. Sicuramente è interessante, considerando invece l'esito delle regionali, quindi mettere a confronto i due risultati è un passaggio importante. Vedremo cosa succede tra due settimane in bocca al lupo a tutti. A me interessa che torni Fontanini, perché ha fatto molto bene Udine. È necessaria un'alleanza per riuscire a vincere il ballottaggio? Mi piacerebbe che vincesse al massimo. Naturalmente io, le posso dire, non ho votato per Fontanini, quindi speravo in una vittoria della controparte, però visto che andata così spero nel ballottaggio adesso. Sono in corso le trattative dei due contendenti alla carica di sindaco, per concordare eventuali apparentamenti con le forze rimaste escluse dal ballottaggio, nel tentativo di allargare il numero dei consensi in vista del secondo turno di voto, previsto per il 16 e il 17 aprile. Adesso ci si attende probabilmente un'alleanza con i due sconfitti, sarà determinante. Per me sarebbe una grandissima cosa, perché ne ho votato proprio Marchiol, quindi spero che ci sia una collaborazione per tutto quello che vuol fare per la città. Se l'aspettava questo risultato? Più o meno sì, perché ho sentito tante negatività sul sindaco attuale, io invece non mi ero dispiaciuto. Quindi in previsione del ballottaggio, la sua previsione? Preferisco il mantenimento del sindaco attuale. Quindi al ballottaggio lei è fiducioso che l'amministrazione precedente verrà riconfermata? Senz'altro.